Buonasera Ma non solo questa decisione arbitrale Partiamo da un concetto che il Sena ha fatto 36 punti in questo suo campionato E ancora oggi sarebbe salvo per quello che è la classifica Purtroppo in virtù della nostra penalizzazione Siamo stati sempre costretti a inseguire tre punti in tutte le partite Quando magari in un campionato normale avremmo potuto Tra virgolette gestire anche a livello tattico le partite Con qualche punto magari saremo arrivati in porto con anche qualche giornata d'anticipo Purtroppo la penalizzazione iniziale avendo fatto una grande rincorsa nel girone di ritorno Ha fatto sì che dovessimo sempre andare a ricercare i tre punti E così è stato nelle ultime giornate anche oggi La squadra ha fatto un buon primo tempo Stava giocando un buon calcio Purtroppo in qualche circostanza, in qualche episodio Oggi non è stato particolarmente fortunato È successo al Catania altre circostanze Dove sicuramente meritava miglior fortuna sotto questo aspetto Ma oggi direi che il Sena Insomma c'è stato un episodio iniziale su una spinta di Emegara Sullo 0-0 mi sembra Sullo 1-0 nel primo tempo Un fallo su sesto quando c'è stata l'azione di ripartenza Poi è arrivato il gol di Berghese Dove peraltro abbiamo commesso anche noi un errore lì E l'espulsione come mi dicevi te A noi è parsa a tutti Insomma nel momento in cui Felipe entra in scivolata La palla gli va sul braccio Dietro c'è anche Texera Non mi sembra una chiara occasione da gol Mi sembra più un fallo di ammunizione Che magari poteva essere Magari sanzionato con un diverso tipo di sanzione Ecco tutto qua Però non mi piace a me commentare Non l'ho mai fatto Anche se abbiamo altre volte anche noi Sotto questo aspetto magari subito qualcosa Però nonostante questo in dieci La squadra ha continuato anche nel secondo tempo È andata vicina in qualche circostanza al gol È stato bravo il portiere Frison Mi dicono anche sul terzo gol Non l'ho rivisto di Berghese Ci potesse essere un fuorigioco Non so Mi hanno detto i commenti Poi magari potassi anche di no Voi siete più bravi in questo Nel rivederlo Ma al di là di questo I meriti del Catania Sicuramente che è un'ottima squadra Una squadra ben organizzata Che ha grandi qualità E che ha fatto un ottimo torneo Ecco Mr. Play Ti aspettava di affrontare un Catania così determinato Troppo a cercare la vittoria? No ma è giusto che sia così Noi non è che non ci aspettavamo Ma anche noi siamo venuti qui Per cercare di fare la nostra partita Come è normale che sia E quindi direi che la gara è girata oggi Come succede spesso nel calcio In alcuni episodi Che magari in certe circostanze Ti vanno a buon fine O ti vanno meglio E in altri episodi non ti vanno bene Noi direi che il Catania È stato molto bravo Concreto Cinico A concretizzare le situazioni da gol Che si sono presentate Noi dall'altro lato Pur avendo avuto qualche circostanza importante Non siamo riusciti A mettere la palla dentro Come ti ho detto prima Nel momento in cui tu nel girone di ritorno Recuperi il campionato E sei lì a ridosso delle altre È chiaro che ogni minimo episodio negativo Lo paghi Perché noi non dimentichiamo Che abbiamo recuperato punti Tanti punti al Genoa Tanti punti al Palermo Tanti punti a squadra A Pescara Che alla fine del girone di andata Erano 9 punti di distacco da noi 10 punti di distacco da noi Quindi abbiamo dovuto fare Un grande dispendio A livello nervoso E fisico Per recuperare Una classifica Di un certo tipo E una volta arrivati lì È chiaro che Negli episodi Noi abbiamo avuto Una partita determinante Che è stata quella con il Chievo Dove anche lì Pur dominando Pur creando tante occasioni Che da diverse occasioni da gol Facendo un gol regolare Diciamo Magari ve lo ricordate Purtroppo In quell'episodio Sì esatto Non siamo riusciti a portare a casa Quanto meritavamo È chiaro che poi Andando avanti Ne hai 30 di punti Invece che 36 effettivi Che sono quelli che hai fatto E quindi devi sempre cercare Di forzare le partite Per vincere A livello nervoso Psicologico È chiaro che E anche tattico È chiaro che devi avere sempre Un atteggiamento molto propositivo Molto Tra virgolette Nel finale di campionato Andando a rischiare anche qualcosina Quando magari Avresti potuto avere Magari Tra virgolette Un atteggiamento Magari diverso In un campionato Dove hai 36 punti A due mesi dalla fine del campionato Un mese e mezzo Dalla fine del campionato Beh direi che puoi arrivare in porto Con un po' più di tranquillità Sì Mi stendo meglio L'aspetto mentale L'aspetto tattico L'aspetto psicologico Fisico Tutto quanto Perché con 36 punti Cerchi di vincere Ma poi Se ti capita di fare già la partita Pazienza Hai parigiato E vai avanti Fai strada E nel giro Noi a sette partite dalla fine Sette partite dalla fine Sette partite dalla fine Eravamo a 30 secondi Ancora Quindi Voglio dire Tu arrivi con un filo di gas Come stanno facendo Peraltro hanno fatto altre squadre Bene giustamente Come Bologna Chievo Torino Torino Che peraltro è ancora lì Alla fine Alla fine dell'ultimo tempo Tutto un giro sotto Di un uomo Come Contenuta la partita Che in questa In maniera Aveva già Fatti Preventivato No 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 Alla fine Creare qualche presupposto Per Magari nell'ultimo passaggio Nelle conclusioni finali Non siamo stati così bravi E abili Mentre Dall'altra parte Bergessio è stato Devastante Nel senso È stato cinico Al cento per cento Perché ha toccato due palle E le ha messe tutte e due dentro Poi È andata così Guarda i miei giocatori Posso rimproverare solo Un qualcosa Nella partita della Roma Sotto l'aspetto Perché Magari la partita Col Chievo Aveva lasciato qualche strasci Con uno o due iniziale Che ovviamente È stata una botta forte E magari Dove lì Magari abbiamo Sbagliato In alcuni concetti Sia psicologici Tattici Però Sotto il resto Questo gruppo Ha sempre spinto Ha sempre lavorato Nonostante le tante difficoltà Non dimentichiamo Che noi a gennaio Abbiamo venduto 12 giocatori Abbiamo preso tanti ragazzi Giovani sconosciuti Quindi Nonostante questo Le difficoltà di uno sponsor Come il Monte dei Paschi Che è uno sponsor principale Della società Però Siamo andati sempre avanti A testa alta Anzi A testa bassa Senza pensare a nulla E cercando di rincorrere Questo nostro obiettivo È chiaro che Quando devi rincorrere Un obiettivo così Gli episodi Poi soprattutto Nel finale di campionato Possono essere decisivi Possono fare la differenza Non devi averne uno a sfavore Perché come ne hai uno a sfavore Ti crolla Il castello Che hai costruito Con tanta fatica Quindi Guardiamo avanti Ora dobbiamo continuare A onorare il nostro campionato E cercare di fare Ancora altri punti Perché Almeno Dobbiamo arrivare a dire Che a fine campionato Da 36 Ne avessimo fatti altri Dovessimo fare ancora qualcuno Con 38 40 punti Quelli che riusciremo a fare 41 Magari saremo salvi Ugualmente Quindi Sotto questo aspetto Abbiamo ancora Da dire la nostra C'è una diversità Comentare Per superare C'è un governo Perché C'è una diversità E' una diversità Beh Certo Ma dobbiamo Come sempre abbiamo fatto Sia nelle cose positive Che negative Dobbiamo un giro a pagina Ripeto Questo gruppo E' sotto pressione Da tanti mesi Per questa Questa grande penalizzazione Iniziale Anzi Alcuni a Natale Ci davano già per spacciati Invece siamo riusciti A rimetterci in carreggiata Con tanto lavoro Organizzazione di gioco Mentalità Spirito Sacrifici Quindi Dobbiamo continuare Su quella strada E onorare Beh E' una partita difficile La Fiorentina la conosciamo Una grande squadra Quindi sarà una partita difficile Ma noi alle partite difficili Siamo un po' abituati Perché siamo un po' In questo campionato Tra virgolette Siamo un po' Nascene l'Eventola E quindi in questo senso Cercheremo Di fare del nostro meglio Per onorare Questo appuntamento Lei Non ha mai avuto Una grande La situazione Tra le prime Le strutture Non molto Non molto Facili Nel ultimo Quest'anno Perché I colori impianti Non essere Vito Ma sai E' chiaro Che magari Quando A Brescia Mi è successo Ma Andai via Che ero salvo E poi sono tornato Che magari A momenti Ci salviamo All'ultima giornata Perché è una rincorsa Importante Qui Sono arrivato Con una situazione Di grande difficoltà E ho cercato Di rimettersi In carreggiata In vita E dare una mentalità Uno spirito Un gioco Una squadra Direi che questi obiettivi E' valorizzare I tanti giovani Che ci sono Diciamo che ci siamo Sotto questo aspetto Riusciti Purtroppo Io E questo è il destino Dall'altro lato Mi sono sempre conquistato Le cose sul campo Vincendo Tre campionati Quindi la Serie A L'ho conquistata Attraverso Un lavoro Di tempo E poi Vedremo Intanto uno cerca Di fare del proprio meglio Di lavorare sempre al meglio Dovunque sono stato Poi capiterà magari Di poter andare A programmare O a fare O ad avere Un progetto O di dare continuità A un certo tipo di lavoro Perché è chiaro Anche qui a Sena Mi sono trovato bene con tutti Una società seria I collaboratori giusti Purtroppo E' chiaro Subentrando In un momento di difficoltà Di grande difficoltà E' chiaro che uno Cerca di rimediare A tutte le situazioni Che si trovano Da allenatore Come ha visto La paracola del Catania Che è diciamo Da piccola Come potreste Inizialmente La regina Adesso si è trovato Inizialmente Guarda Io Io penso che Ci sono alcune squadre E alcune società In Serie A Faccio Qualche nome Dico il Cagliari Dico il Catania Dico anche il Chievo Tanto per essere chiari Nessuno si offende In questo senso Sotto questo aspetto Dove Penso che Il lavoro Sia questo Sia stato fatto Questa è una società Che ha costruito Il suo Un gruppo squadra Solido Un gruppo di giocatori Importanti Ha scelto Bravi allenatori Andando avanti Nella sua storia E comunque C'è tanta qualità Qui a Catania Vedo giocatori Di ottima individualità Di ottima qualità Un buon gruppo Che con gli anni E' stato spalmato E' stato Magari Plasmato Stesso discorso Un po' a Cagliari No? E questi sono Fattori importanti Perché quando vai O ti trovi Ad allenare Insomma Squadre Con questi Valori Poi sul campo Ne hai anche Il piacere Di raccogliere Anche i risultati Come giustamente Con merito Sta facendo Sta facendo Rolando adesso Ecco Su Rolando L'ultima domanda Proprio è questa Visto che Rolando Marana Nel primo anno Che è passato Con questa società Quanti sono I meriti Di Marana E quanti Quelli di una società Come diceva anche Adesso Mette nelle condizioni Ideali Io penso Che vanno sempre divisi Meriti Quando ci sono De buoni risultati Vanno sempre divisi Tra l'aspetto Societario Per quello Che ha costruito Ha saputo costruire Nel tempo Questa società E i dirigenti Che ovviamente Fanno le scelte Poi i tecnici Lo staff tecnico Perché ha fatto Un buon lavoro Aveva dietro Un'eredità Di Vincenzo Montella Che era abbastanza pesante Però Come ripeto Ha potuto lavorare bene Con Con il fattore giusto Sul campo è bravo Con una rosa Di buoni giocatori A livello qualitativo Morale Tecnico Tattico E quindi Poi in un ambiente caldo Come quello di Catania Dove i tifosi Sono sempre molto appassionati Quindi Si è potuto andare A sviluppare Un certo tipo A dare continuità A un certo tipo Di progetto Penso che questi Nel calcio di oggi Siano fattori importanti Che danno poi risultati Ok Prego